Facciamo due cappuccini insieme? Da più freddo, mi raccomando. Spurgate sempre la lancia. Lasciate che il latte giri e prenda aria. Tanta aria. Più o meno fino a 70-75 gradi. Immediatamente pulite la lancia e flussate. Perché espresso? Appena sganciate, flussate acqua dal gruppo. Controllate il biscotto. Questo significa che stiamo usando la dose giusta. E' la Grazie a tutti 5 secondi di preinfusione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti